19 marzo, la festa del papà, un crimine al giorno, la botteguccia dei sigilli con un papà molto molto speciale, un medico cardiologo, l'anno è il 1955, siamo in Tennessee, vi faccio vedere immediatamente la scheda, McAllister esattamente, Tennessee, la contea di McAllister in Tennessee e il dottor Ben Galbraith aveva deciso che aveva la necessità di tornare a vivere da solo. E allora fra le 1 e le 5 del mattino rispettivamente tirò una bottigliata terrificante sulla testa della moglie Kitty Galbraith facendole perdere i sensi e poi si recò nella stanza dove dormivano i figli Frank, Geer e Sara di rispettivamente 7, 5 e 4 anni e gli fece prima una iniezione di morfina e poi un'iniezione di arsenico e dalle sue parole in deposizione morirono come angeli e nel frattempo tornò nella sala da pranzo dove la moglie sul divano si era svegliata e a questo punto siccome stava facendo con i suoi lamenti diciamo un po' di rumore che avrebbe potuto disturbare il riposo dei tre figli decise di prendere uno straccio e soffocarla con tale straccio insomma chiudendo la sua personalissima festa del papà. Ben Galbraith venne condannato alla sedia elettrica in quanto rio confesso insomma ritenuto evidentemente colpevole con l'unico movente della pazzia e in realtà non arrivò mai alla sedia elettrica perché si suicidò, si impiccò in cella. Queste sono insomma le informazioni reperite su questo papà molto particolare nella festa del papà per il 19 marzo a un crimine al giorno su Crack Apart YouTube come al solito per un'altra pillola particolare di crimine ci vediamo domani su Crack Apart YouTube. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!